Partiti! 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 Mentre Dorotea Tanning figura in coda, mentre Rendenon perde terreno rispetto al gruppo e segue discosto. Nel frattempo To Be Free continua a galopare in vantaggio. Cannibal Freedom in seconda posizione Bueno Savier che ha mosso poi Schumi Forever ancora Timon Board Turul, Corbatti, Dorotea Tanning queste le posizioni poco prima del completamento della piegata finale Bueno Savier che si prepara in corsia esterna seguito da Schumi Forever Tubi Free in corda che prova a ripartire poi Cannibal Freedom e Timon Board gli altri più arretrati adesso e si rispongono lungo tutto l'arco della pista prova a recuperare Corbatti Schumi Forever sotto la minaccia di Timon Board Bueno Savier che prova a rimanere in quota in corda Tubi Free ma alla fine sono Schumi Forever e Timon Board che si vanno a staccare in rotta con Schumi Forever che ha l'appoggio dello steccato Timon Board che insiste gli altri che a questo punto non possono più intervenire è molto serrata la bagarre anche se Schumi Forever ha ancora margine rispetto a Timon Board che però non si vuole assolutamente lasciare da parte e ci prova ancora Schumi Forever e Timon Board Schumi Forever che ha respinto Timon Board Schumi Forever che viene a vincere ancora su Timon Board per il terzo Tubi Free che sul passo rientra su Bueno Savier Dorotea Tannin, Corbatti e tutti gli altri Cavalli stremati il meno di tutti è Schumi Forever Federico Bossa che colpisce per la signora Marras ai colori il signor Marras Quagliozzi al training Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti